Cari amici, benvenuti a questa quattordicesima puntata sul documento papale Amoris Letizia. Capite che nelle tredici puntate precedenti abbiamo analizzato, studiato quasi tutto il documento di Papa Francesco, siamo nelle battute conclusive, però sono le battute conclusive più importanti sotto tanti aspetti. Già nella puntata precedente abbiamo avuto modo di introdurre il tema di scottante attualità di cui il Papa si occupa in questo ottavo capitolo che stiamo analizzando dell'Amoris Letizia. E' il tema dei divorziati risposati. Lo riprendiamo perché la volta scorsa avevamo solo enunciato la diversità di situazioni in cui possono venirsi a trovare questi divorziati risposati. La categoria divorziati risposati è per sua natura una categoria generica. Non si può fare dell'erba un fascio e bisogna quindi discernere, distinguere le diverse situazioni. Per esempio il Papa scrive che ci può essere una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, con una fedeltà provata, con una dedizione generosa, con un impegno cristiano che magari nella prima unione non c'era. Un conto è che il primo matrimonio sia stato formalmente valido sul piano canonico, ma nella sostanza poco o per niente cristiano, e magari questa seconda unione che formalmente non è valida, magari vede i due coniugi sposati solo con rito civile, ovviamente più impegnati anche dal punto di vista cristiano. Non è raro il caso di chi praticamente ha scoperto la fede non nel primo matrimonio celebrato formalmente in maniera valida, ma nel secondo matrimonio. Diversa è anche la situazione di chi ha fatto grandi sforzi per salvare il primo matrimonio e ha poi subito un ingiusto abbandono. Rispetto a chi invece questo abbandono lo ha provocato con il suo comportamento immorale, con le sue ripetute violazioni ai doveri familiari. E così anche ci sono quelli che hanno contratto una seconda unione matrimoniale in vista dell'educazione dei figli e che sono soggettivamente convinti in coscienza che il primo matrimonio non è valido. Per esempio anche qui il Papa, pensate che prima ancora di scrivere la Moris Letizia, ha chiesto ai tribunali ecclesiastici in qualche modo di sveltire i procedimenti di dichiarazioni di nullità matrimoniale e ha semplificato egli stesso la procedura. Non entro qui nel dettaglio canonistico, mi limito soltanto a dire questo. Il Papa ha anche chiesto che nei casi in cui i soggetti interessati debbano essere aiutati economicamente a portare avanti questo processo per la dichiarazione di nullità, la Chiesa cerchi di fare tutto questo anche in maniera gratuita, che non si venga a dire che l'annullamento del matrimonio è solo questione di soldi. Non è questo e non deve essere assolutamente questo. La dichiarazione di nullità semmai è una salvaguardia della dignità del sacramento del matrimonio, perché qualora un tribunale ecclesiastico dichiarasse nullo il matrimonio lo farebbe unicamente per dire che il sacramento ha una sua dignità e non può essere violato da vizi non solo formali ma spesso anche sostanziali. Pensate chi si sposa in chiesa negando già a priori caratteristiche e proprietà fondamentali del matrimonio, quali l'indissolubilità, la fedeltà, la procreazione o chi si sposa in chiesa non in maniera libera e cosciente e via di seguito. Adesso non ci addentriamo nella casistica. Però certamente questa è una strada percorribile e io penso personalmente che sia una delle strade più percorribili, cioè quella di favorire il più possibile questi procedimenti canonistici tesi a eventualmente verificare la validità o meno del matrimonio contratto in chiesa. Al lume di naso forse molti di noi siamo convinti che tanti matrimoni celebrati in chiesa non sono validi. Naturalmente questo convincimento va poi verificato nella sostanza del diritto canonico, però questo va a maggiore salvaguardia della dignità del sacramento del matrimonio. Facendo un debito discernimento di queste situazioni diverse, Papa Francesco dice che comunque va affermato che i divorziati risposati non sono scomunicati, ma continuano a far parte della chiesa. Questa è un'altra affermazione che per la verità già nei documenti papali precedenti era stata formulata, penso ancora a Giovanni Paolo II e alla Familiaris Consorzio del 1981. Quindi questi soggetti divorziati risposati ma battezzati continuano a far parte della chiesa. Si tratta di capire quali, dice il Papa, quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate, in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale, possano essere superate. Ma non c'è dubbio sul fatto che queste persone possono vivere e maturare come membra vive della chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo. Tenendo conto della grande varietà di situazioni concrete, non è pensabile, dice il Papa, che ci possa essere una nuova normativa generale di tipo canonico applicabile a tutti i casi. È utile pertanto che i divorziati risposati siano invitati a fare un esame di coscienza, chiedendosi come si sono comportati verso i figli, se hanno fatto tentativi di riconciliazione, se si sono comportati bene nei confronti del partner lasciato, e poi attraverso il colloquio con il sacerdote, in foro interno e quindi nel segreto, nell'intimità di questo colloquio spirituale col sacerdote, si può giungere, dice il Papa, alla formazione di un giudizio più corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorire o far crescere questa partecipazione più piena alla vita della Chiesa. Da un lato bisogna mantenere un atteggiamento di umiltà e di amore alla Chiesa e al suo insegnamento, quindi nessuna presunzione, nessun orgoglio, nessun rifiuto preconcetto dell'insegnamento della Chiesa, dall'altro lato va evitato il rischio, dice il Papa, di lanciare messaggi sbagliati, come per esempio l'idea che qualche sacerdote possa concedere rapidamente eccezioni o che esistano persone che possono ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori. È evidente che la Chiesa non può sostenere una doppia morale, ci mancherebbe altro. La Chiesa ad un tempo deve essere fedele al Vangelo, e quindi fedele al precetto di Cristo circa l'indissolubilità del matrimonio, non divida l'uomo ciò che Dio ha congiunto, ma contemporaneamente la Chiesa deve essere anche madre accogliente che cerca di capire se il primo matrimonio contratto è stato veramente valido oppure quali forme si possono presentare per i divorziati risposati al fine di favorire una loro più piena partecipazione alla vita della Chiesa. Al numero 301 Francesco fa un'affermazione molto importante. Non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta irregolare vivano in stato di peccato mortale privi della grazia santificante. Esistono infatti molti fattori che limitano la capacità di decisione o che attenuano la colpa. E qui il Papa non fa altro che rifarsi alla morale, per così dire, tradizionale, anche alla morale espressa nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Quali sono i fattori che possono limitare la responsabilità morale, la colpevolezza morale dei soggetti? L'ignoranza, l'inavvertenza, la violenza, il timore, l'immaturità affettiva e altri fattori, dice, psichici e sociali. Quindi un conto è dire che una certa norma è stata violata sul piano oggettivo, un conto è dire che il soggetto abbia responsabilità circa questa violazione. Può averla, può averla in un certo grado, può averla in un massimo grado, può perfino non avere nessuna responsabilità. E quindi su questo va fatto ovviamente un opportuno discernimento. Sulla base di questi condizionamenti si può sostenere, dice Francesco, che la coscienza delle persone deve essere meglio coinvolta nella prassi della Chiesa in alcune situazioni che non realizzano in maniera oggettiva la nostra concezione del matrimonio. Questa coscienza può riconoscere non solo che una situazione non risponde obiettivamente alla proposta generale del Vangelo, ma può riconoscere con sincerità e onestà ciò che per il momento è la risposta che si può offrire a Dio e scoprire con una certa sicurezza morale che quella è la donazione che Dio stesso sta chiedendo in mezzo alla complessità concreta dei limiti, benché non sia ancora pienamente realizzato l'ideale oggettivo. Che cosa vuole dire il Papa con queste parole? Che in alcune situazioni contingenti e particolari il massimo bene possibile da realizzare si sta realizzando nell'attesa che si possa aggiungere a forme anche ulteriori di realizzazione del bene, sempre secondo quella legge della gradualità di cui vi ho parlato nella precedente puntata. Il Papa da questo punto di vista cita Sant'Ommaso e dice che le norme generali nella loro formulazione non possono abbracciare tutti i casi particolari, per cui il discernimento pratico di una situazione particolare non può mai essere visto come una norma generale. In ogni caso, dice il Papa, le leggi morali, e questa espressione tipica di Francesco, non sono pietre che si lanciano contro la vita delle persone. La conclusione allora è al numero 305, ve la leggo. A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile, scrive Francesco, che entro una situazione oggettiva di peccato, che non sia però soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno, si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa. e nella nota 351, che poi è stata la nota più gettonata, più citata dai media, il Papa dice che in certi casi questo aiuto della Chiesa può essere anche quello dei sacramenti, tenendo conto che l'Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Cerco di chiarire questo pensiero, che ovviamente è il più importante. Il Papa dice, è chiaro che a volte i soggetti divorziati e risposati si trovano in una situazione oggettiva di peccato. E' altrettanto chiaro che a volte la loro responsabilità o colpevolezza soggettiva può essere non piena o addirittura del tutto assente e quindi è chiaro da questo punto di vista che queste persone possono sentirsi in grazia di Dio ancorché sul piano oggettivo stiano contravvenendo a quello che è l'ideale morale proposto dalla Chiesa. E quindi possano ricevere l'aiuto della Chiesa un aiuto che in alcuni casi può essere anche quello dei sacramenti, della confessione e dell'Eucaristia. E' naturale che tutto questo procedimento va fatto, come si diceva, in foro interno, nel colloquio col sacerdote, cercando di capire come stanno effettivamente le cose dinanzi a Dio. Non è una sconvolgente novità, come dire, perché già in passato la Chiesa aveva valutato la possibilità di far accostare ai sacramenti divorziati e risposati tenendo conto di quello che nella morale tradizionale si chiamava il remoto scandalo e cioè evitare confusione negli altri fedeli che magari conoscono la situazione di questi soggetti e che vedendoli accostarsi alla comunione possono magari avere confusione circa la verità del sacramento del matrimonio. Quindi è un discernimento che va fatto, in ogni caso non è soltanto l'accesso all'Eucaristia vista come un premio per i buoni la maniera di integrare queste persone. Queste persone possono essere integrate nella vita della Chiesa anche quando con sofferenza la Chiesa non può ammetterle alla soluzione sacramentale in confessione e quindi alla comunione eucaristica. Questa impossibilità deriva dal fatto che chi vive in uno stato permanente e oggettivo di peccato non può fare il proposito di non commetterlo più proposito che è fondamentale per chi va a confessarsi perché chi va a confessarsi non solo confessa il peccato ma confessa anche il suo proposito di non commetterlo più. Naturalmente, ripeto, anche questa situazione va valutata in foro interno, in coscienza nel colloquio con il sacerdote. E' ovvio, infine, che la Chiesa non può rinunciare a proporre, dice il Papa, l'ideale pieno del matrimonio. Lo sforzo di comprendere queste situazioni eccezionali non implica il nascondimento della piena verità o l'idea che si debba fare solo una pastorale dei fallimenti. Con questa affermazione finiamo questa puntata e ci diamo appuntamento alla prossima. A risentirci e arrivederci.